Non è uno scherzo, alla fine di ogni 15 giorni bisogna mettersi le mani in tocca. E questo glielo abbiamo detto, ha annuito, ha riconosciuto quel tema di incontro, c'era l'incontro, c'era l'incontro, c'era l'incontro, era presente, così come era presente. In questo momento cercare di aggiornare le schede. Questa è la legge, per quando non possono bloccare le mani, chiede la norma, non era conoscente le penitenti, queste danzino, basta ci sistemiamo. Allora, a me